Il Ministero della Salute ha lanciato l'allarme spinaci ed ha ritirato un lotto di un noto supermercato. La segnalazione è arrivata nelle ultime ore. Si tratta degli spinaci italiani surgelati con mozzarella e condimento ai formaggi della nota marca Deco. Il prodotto è commercializzato da Deco Italia SCARL. Con il marchio di identificazione IT1339-LC, il produttore è GiassSRL. Mentre lo stabilimento si trova a Mongrassano Scalo, in provincia di Cosenza, in via nazionale 870-40. Il lotto riporta il numero di produzione L229 e la scadenza fissata ad aprile 2024. La confezione singola ha un peso di 450 grammi. Questo lotto è stato ritirato per la possibile presenza di corpi estranei simili al frutto dello stramonio. Gli operatori raccomandano ai clienti di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita, considerando la sua pericolosità. Il costo del prodotto restituito verrà rimborsato, anche senza presentazione dello scontrino. All'interno del modello di richiamo pubblicato sul sito web del Ministero della Salute si legge che, negli spinaci a marchio Deco, sono stati riscontrati corpi estranei, agenti chimici simili al frutto dello stramonio. Se davvero si appurasse che si tratta di frutto dello stramonio, il consumo di questi spinaci risulterebbe molto pericoloso. Lo stramonio è altamente nocivo. Alcune tribù lo chiamano l'erba del diavolo o l'erba delle streghe. Questa pianta a fiore appartenente alla famiglia delle solanacee contiene un'elevata concentrazione di alcaloidi, presenti ovunque, in ogni parte della pianta stessa. Tra i vari alcaloidi maggiormente presenti in termini di concentrazione troviamo la scopolamina, sostanza allucinogena estremamente tossica. Lo stramonio contiene altre sostanze pericolose per la salute umana come l'atropina. Che ne pensate di questo ennesimo, velenosissimo allarme alimentare? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Grazie a tutti!